Siamo con Andrea Benelli qua al WPT, sta andando abbastanza bene ma noi vogliamo parlare come al solito della tua specialità, ovversa del cash. E parliamo di una cosa che in realtà nei forum crea sempre qualche scompiglio tra i giocatori più grinder e più indiristati e la tecnica e quelli un po' più occasionali, ovvero sia la 4-bet air, ovvero sia in aria, in bianco, in blef praticamente. Una mossa che fa parte del bagaglio di ogni giocatore, come puoi affrontarla e come si affronta nel cash una mossa del genere? Dipende ovviamente da chi hai al tavolo, da chi hai davanti e se i giocatori sono molto, per esempio, se fanno una partita cash, come abbiamo fatto qualche mese fa al Perla, Con giocatori di spessore, Malessio Isaia, Marigliano, Marcello, insomma tutti giocatori molto forti. La 4-bet, come hai detto te, è molto difficile, perché alla fine sono giocatori molto e non scappa niente, quindi insomma bisogna cercare di oculare. Una mossa solamente quindi per livelli alti, sconsigliata da fare contro avversari medio-bassi che potrebbero non comprendere la differenza? Ovviamente, dipende come hai detto te, chi hai davanti, alla fine sei un giocatore molto bravo al tavolo, è molto più facile alla fine fare qualche mossa in più. Se diciamo hai giocatori abbastanza scarsi, è un po' più difficile fare la 4-bet in aria, perché alla fine è molto difficile.